Anche mi complimento con Totti perché ha fatto le cose ufficialmente, con versamenti ufficiali, il che non avviene quasi mai, perché gli imprenditori quasi mai finanziano la politica, che ha bisogno dei finanziamenti, ma quasi mai lo fanno ufficialmente. Molte volte addirittura lo fanno per un candidato e anche per l'altro, come è avvenuto quando avevo di fronte Cacciari. Quindi l'importante è la seconda parte di quello che hai detto. Poi ti telefonano e ti chiedono, no, perché c'è un'interlocuzione, certo che c'è un'interlocazione, ma tanto per dirne una, sul Mose che sarebbe la cosa, io non ho mai fatto una delibera, mai approvato un atto, perché? Perché non è di competenza della ragione, ma è di competenza dello Stato. Dopodiché, se si fanno i piaceri sotto pagamento, quella è corruzione. Però io ho fatto decine, decine, centinaia di appalti. Ti chiedo questo, bisogna che ti devo dare del tu, perché ti intervistavo, ti venivo dietro con il microfono, ti facevo le domande cattive già all'epoca quando eri potente doge di Venezia. E quindi ti ricordi le volte che ti ho inseguito col microfono. Adesso però ti voglio chiederti una cosa. Non me ne parlare, guarda. Eh, lo so, ti ho fatto le domande che andavano fatte. Però hai patteggiato due anni e dieci mesi nel 2014, quindi tu hai pagato, tu in qualche modo poi ti trovi nella condizione in cui tra poco ci racconterai. Ma quando vedi questa lista di finanziatori, no? Qual è il confine a un certo punto? Cioè, questi qui sono tutte imprese che lavorano nel sistema portuale di Genova, no? E se ti ho finanziato la campagna elettorale, non l'ho fatto, l'ho fatto perché credo in quelle idee lì. Ti faccio sentire cosa...